Salve a tutti, ho creato questo video pre-WWDC, dato che comincia domani, dall'8 al 12, per spiegare magari alle credo poche persone che non sanno cosa verrà, si pensa, presentato al keynote di domani. Allora, prima di tutto quello che è sicuro è che verrà rilasciato, credo immediatamente, il nuovo iPhone OS 3.0, compatibile con gli iPhone di prima e seconda generazione, gli iPod credo solo di seconda generazione, ma non sono sicuro, i touch normalmente. Per l'iPhone è gratis, per l'iPod costa 7 euro, 8 euro, non mi ricordo. Poi, per quanto riguarda gli iPhone, qualcuno pensa che non verrà rilasciato la nuova iPhone, qualcun altro sì, io penso di sì, verrà rilasciata in diverse versioni di iPhone, alcune più economiche, ce ne parla di una uguale, quasi uguale alla versione, questa attuale, solo che qua su, vabbè, questa è un iPod, ci sarebbe una fotocamera per fare anche videochiamate da usare con iChat, eccetera, eccetera. Si pensa, però non sei sicuri. E poi altre versioni costose di più, insomma, costava quanto il vecchio iPhone con il CPU più potente, il CPU più potente, magari anche uno schermo retroilluminato a LED, che quindi consuma meno. Poi altre piccole migliorie che non si sa bene, insomma, più spazio, ma sono tutte supposizioni. E mentre per Snow Leopard, allora, sul sito della WWC parlano apertamente di Snow Leopard, sono usciti anche dei manifesti, quindi suppongo, non credo che lo rilasceranno domani, questi giorni, insomma, però credo che lo presenteranno, quindi magari faranno dei video introduttivi, come l'hanno fatto per Leopard vecchio, che erano usciti dei video in cui, no, il tour guidato. E si pensa che si uscirà a settembre, settembre-ottobre, insieme, proprio per uscire insieme, per fare concorrenza al Vista, eh sì, a Vista, a Windows 7, dato che dovrebbe uscire il 22 settembre, se non sbaglio. E niente, e questo è tutto, farò un video dopo WWC per commentare cosa sarà uscito, cosa è stato rilasciato e cosa no. Arrivederci a tutti!